Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. Campania resta in zona gialla, ma sorvegliata speciale, e questa è la conclusione del braccio di ferro che da domenica si sta tenendo fra governo e regione. Il governo darà un segnale forte alla città di Napoli, ad annunciarlo il premier Conte. Punto del Vesuviano, con contagi in aumento su tutto il territorio e strutture ospedaliere sempre più in crisi. Si contano quattro morti al San Leonardo di Castellammare e morti anche a Torre del Greco e Torre Annunziata. Passiamo ora alla cronaca. La Guardia di Finanza ha smascherato la truffa di due donne di Torre Annunziata. Le due, su commissione, alteravano nuclei familiari o inventavano nuclei familiari fasulli per poter garantire ticket sanitari gratuiti. I carabinieri invece hanno arrestato a Marano in Napoli un pusher che girava liberamente in macchina con 150 grammi di cocaina e altre sostanze stupefacenti pronte alla vendita. In conclusione lo sport con la Turris che conquista un pareggio in trasferta a Foggia grazie al gol di Longo ed intanto si attende il derby di domenica con la Juve Stabia. Campania resta gialla. Ma continua il braccio di ferro tra regione e governo. Da inizio settimana si discute sull'area di rischio in cui dovrebbe rientrare il nostro territorio. I dati più evidenti del contagio mostrano una situazione drammatica, positivi, incontinuo ed esponenziale aumento ed ospedale al collasso. Unisono è il grido di medici, infermieri, strutture sanitarie e volontari campani. Non ce la facciamo più, chiudete tutto prima che sia troppo tardi. A peggiorare la situazione le diffuse trasgressioni alle norme già blande. Le immagini di domenica e del lungomare di Napoli, gremito di persone, sono state solo la vetrina più diffusa di tali comportamenti. E da nulla valgono le disposizioni dei pochi sindaci che cercano di limitare chiudendo poche aree cittadine. Eppure, alla luce di tutto questo, la campania non è entrata in zona arancione o, come molti avevano annunciato, direttamente in zona rossa. Zona gialla, ma osservata speciale. Per decretarne le sorti, il Ministero della Salute aveva disposto un'ispezione sui dati della regione. La preoccupazione era che i dati trasmessi dall'unità di crisi al governo potessero essere in qualche modo alterati. Una sfiducia che ha fatto infuriare il presidente De Luca, che in più occasioni ha tuonato sui social affermando la trasparenza dei dati da lui trasmessi e rimarcando l'efficienza della sanità campana, che, a detta sua, ha ben diritto di restare in una fascia di criticità bassa. Di fatto, gli ispettori del Ministero hanno controllato dati e strutture ospedaliere. Dopo tale indagine, nulla è cambiato. La campania si conferma gialla, ma le criticità arrestano. Per arginare l'emergenza sanitaria, l'occhio del ciclone si sposta sui controlli del rispetto delle misure anticontagio, in molti casi carenti o addirittura assenti. Nuove restrizioni sarebbero vuote senza un sistema per farle rispettare. Proprio ieri, il governatore De Luca ha inviato una lettera al prefetto di Napoli per sollicitarlo a predisporre un piano di controlli da estendere su tutta la provincia. Sulla questione ospedali è lo stesso premier Conte a intervenire. Ha annunciato durante una riunione con i capi delegazione a Palazzo Chigi. Se ci sono segnalazioni diffuse e criticità sulle strutture sanitarie della città di Napoli, serve dare un segnale. Non è chiaro, però, le modalità e la portata di questo segnale. Lo stesso sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che pur non avendo predisposto zone rosse nei punti critici come il Lungomare, ha annunciato ieri misure clamorose per contrastare l'emergenza sanitaria napoletana. Una delle prime potrebbe essere quella di impedire l'accesso alla città a tutti i non residenti. La campagna resta instabile, una situazione non chiara per i cittadini, confusi dall'evidente ondata della pandemia e da scelte poco chiare degli amministratori. Una paura costante che non viene confermata da decreti e ordinanze. Un braccio di ferro dove potrebbe sembrare che le scelte politiche vincano sempre sulle necessità sanitarie. Sale la preoccupazione nel napoletano per la tenuta delle strutture ospedaliere. Si moltiplicano giorno dopo giorno le segnalazioni da parte di operatori sanitari e amministratori comunali. Non ultimo l'appello di Gaetano Cimmino, sindaco della città di Castellammare di Stabbia, dove ieri sono stati registrati nuovi 48 casi e 28 guariti. Il primo cittadino stabiese parla di situazioni inaccettabili all'ospedale San Leonardo, commentando l'immagine divenuta virale che ritrae la fila di ambulanze all'esterno del nosocomio cittadino. Intanto l'ufficio stampa dell'ASL fa chiarezza sulle voci riguardanti la notizia dei quattro decessi registrati negli scorsi giorni. I quattro pazienti Covid, precisa l'autorità sanitaria, non sono deceduti nelle ambulanze, in attesa all'esterno dell'ospedale. Gli stessi erano regolarmente ricoverati all'interno del pronto soccorso ed assistiti dal personale medico ed infermeristico. Sono sempre più convinto, aggiunge Cimmino, che soltanto con misure drastiche e con l'istituzione temporanea della zona russa in Campania potremo ridurre i contagi e decongestionare gli ospedali. Criticità segnalate anche all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove ieri è stata ritrovata una persona priva di vita nel bagno dell'area di pronto soccorso. Subito al via le indagini, per cercare di far luce sulla causa che ha portato al decesso dell'uomo, sospetto caso Covid. Intanto non si fermano i contagi nei comuni della provincia. Attore del Greco registra dei nuovi 59 casi, di cui uno ospedalizzato. Confermati anche un decesso e sette nuove guarigioni. 31 nuovi contagi, attore annunziata, dove il sindaco Vincenzo Ascione fa sapere anche di un decesso. Siamo costretti a piangere la nonna vittima di questo maledetto virus, l'annuncio del sindaco, che esprime al contempo la vicinanza alla famiglia. Al 10 novembre gli attualmente positivi al Covid-19 nel comune di Portici sono 604. Un segnale incoraggiante, spiega il sindaco Enzo Cuomo, proviene dai dati dei flussi del 9 e 10 novembre, in cui i nuovi positivi scendono sotto le 20 persone al giorno. Attesa per i dati del comune di Bosco Reale, dove il sindaco Antonio Diplomatico ha annunciato le dimissioni. La situazione gravissima in cui si trova il paese, sia da un punto di vista sanitario che economico, gli chiederebbe unità e dialogo che, denuncia il primo cittadino, in questo momento mancano. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un sistema di frode grazie al quale 215 persone hanno ottenuto illecitamente esenzioni dei ticket sanitari per un ammontare complessivo di oltre 55.000 euro in danno dell'Asa Napoli 3 Sud. Due donne elementi della truffa, entrambe di 50 anni e residenti a Torre Annunziata. Le stesse si facevano corrispondere a una provvigione fissa, per questo le due donne e gli indebiti precettori sono stati verbalizzati con sanzioni amministrative complessive per oltre 220.000 euro. In particolare, i finanzieri della compagnia di Torre Annunziata hanno appurato che le stesse avevano ideato un consolidato stratagemma mediante il quale venivano creati, con la presentazione di false dichiarazioni, nuclei familiari fittizi al fine di consentire a soggetti che non ne avrebbero avuto diritto di beneficiare delle esenzioni per il pagamento dei ticket sanitari. In sostanza, coloro i quali risultavano avere un reddito individuale elevato venivano inseriti nei nuclei familiari composti ad hoc con persone indigenti in modo da rientrare nelle categorie di beneficiari di esenzione. Stava uscendo dal suo garage a bordo di un'utilitaria quando i carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli lo hanno fermato e controllato. E' così che i militari hanno rinvenuto nel veicolo 150 grammi di cocaina e oltre 500 euro in contante ritenuto provento illicito. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio, un 33 ne è incensurato del posto. Nel veicolo anche le chiavi di un box all'interno del quale i carabinieri hanno rinvenuto 6,5 kg di hashish, 627 grammi di marijuana, 22 di cocaina, materiale vario per il confezionamento, due serbatoi per arma da fuoco e un proiettile calibro 9. Nell'abitazione del 33enne anche 400 euro in contante ritenuto provento illicito e altre due dosi di marijuana. Le perquisizioni sono state estese anche nell'abitazione del proprietario del box auto, un incensurato 43enne di Marano, anche lui arrestato per lo stesso reato. In casa, infatti, oltre a materiale per preparare le dosi, deteneva un chilo di marijuana e 34 grammi di cocaina. Il 33enne è stato tradotto al carcere di poggio reale. Il 43enne è stato invece sottoposto ai domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio. Si è concluso in parità l'incontro in programma ieri pomeriggio allo stadio Zaccheria tra Foggia e Turris. I corallini portano a casa un prezioso punto dalla trasferta pugliese e mandano ancora l'imbattibilità esterna in questa stagione. Sono i rossoneri però a partire forte, creando subito diverse occasioni per passare in vantaggio, ma al quarto d'ora uno sverione difensivo permette prima a Tascone di centrare la traversa da ottima posizione e poi sulla ribattuta a lungo di sfoderare un'ottima rovesciata e portare in vantaggio la sua squadra. Per l'attaccante Corallino è il primo gol tra i professionisti. Poco dopo lo stesso Longosfererà doppio mandando alto il pallone con un rarapicinato colpo di testa. Il Foggia però si ribunta in avanti a caccia del pari, prima con Gentile che vede il suo tiro deviato da un grandissimo intervento di Abbagnale e allo scadere con Curcio che da fuori aria trova l'angolo lontano dove il portiere torrese non può proprio arrivare. All'intervallo è 1-1. Nella ripresa il copione non cambia, con i rossoneri in avanti la Turi sa coprire, ma è di nuovo una pala persa al centrocampo che permette agli uomini di Fabiano, con un perfetto contropiede, di trovare il nuovo vantaggio con Pandolfi che trafigge l'incolpevole Fumagalli. I satanelli prendono ad assedio la porta Corallina e a metà ripresa conquistano un calcio di rigore con D'Andrea che approfitta di un'ingenuità di Lorenzini e permette a Bomber Curcio di trasformare il tiro dal dischetto e riportare in parità la gara, 2-2. Non succede più nulla fino al tripice fischio con i Corallini che fanno un altro passo verso il primo obiettivo stagionale, cioè la salvezza, e si preparano con il morale giusto al derby di domenica prossima a Liguori contro la Juve Stabia. Grazie per la cortese attenzione. Con questo è veramente tutto, vi do l'appuntamento a domani. Grazie a tutti.